Già partecipare a un'Olimpiade è una cosa veramente grande, riuscire addirittura a fare due medaglie è una cosa ancora più grande, sono felicissimo di questa cosa. Sono andato a questa Olimpiade di Parigi 2024 con le giuste aspettative, ci arrivavo da campione del mondo in carica, quindi sapevo di dover far bene, sapevo di dover correre forte. È stata gara dura fin dall'inizio, i due francesi sono riusciti a fare il gioco di squadra e quindi sono andati via e l'unica medaglia che rimaneva era il bronzo, quindi nella corsellina sono contento di essere riuscito a conquistare questo bronzo che per me è molto importante e significa che ancora sono lì al massimo dei livelli. Sono contentissimo anche della medaglia d'argento vinta nella staffetta di squadra, significa molto per noi come squadra, ci siamo trovati bene, era anche la prima volta che correvamo insieme noi tre come squadra, quindi c'è stato subito un buon feeling, c'è stata subito la prestazione, è arrivata la medaglia, sono contentissimo e ora siamo concentrati per il mondiale tra qualche giorno.